Con una certa sorpresa, mi imbatto in questo articolo su un importante quotidiano svizzero. Welly Stick mi fa una serie di critiche. Welly dice che ho barato. Sosteneva che ero ricorso alle corde. Le corde sulla traversata Intersteusser. Allora, mi chiedo di vederci per un caffè. Sull'Intersteusser sono ricorso al massimo della concentrazione. Devo appiattirmi sulla roccia e affidarmi ai ramponi. Con quelle punte sottili cercavo un appoggio sulla parete liscia. Ho perso molto tempo in quel segmento. Non è come i centometri piani quando si compete tutti insieme. Sì, certo, non sono i centometri piani. Ma se tu spari a zero contro di me su un giornale, i media amplificano la cosa. Non mi pare un modo di fare molto corretto. Ho affrontato tutta la parete senza aiuti. Lui ha usato le corde. Ne vado fiero. Sono il primo che si è spinto fino a quel limite. Arrampicarsi senza la corda è più autentico. Non si può barare. Sei solo tu e la roccia. Tu e la montagna. Arrampicarsi senza la corda. Grazie.